Bravi ragazzi, ragazzi, bravissimi! Si giocare si sono anche impressionati. Vogliamo per le loro parte della marchetta. A nome del circolo della SCO, ringraziamo i partecipanti di averci rilasciato della loro presenza. Ringraziamo anche i dirigenti Modelo Vela qua presenti che ci hanno fatto visita, ci hanno anche dato una mano. E poi cosa posso dire? Come arbitro sono rimasti veramente soddisfatti perché è una classe molto agguerrita, le barche camminano tutte, comunque siamo stati nel limite della correttezza. Cosa vi posso dire? Niente, fai... Cosa vi posso dire? Sì, si... Non ce li ho saldi, ragazzi! Sì... Che altro vi posso dire? Complimenti a Chiavino! Grazie! Bravo Federico! Bravo Federico! Bravo Federico! Che comuove! Che comuove! Che comuove! Che comuove! La cosa migliore è passare a questo punto alla premessa... Eh no, se volete la tradizione... Se volete la tradizione...